Buona serata a tutti, siamo in collegamento dall'Istria con la signora Pia che ci ha da proporre un documento storico molto importante. Signora Pia in linea, parli pure. Guarda, è straordinario, guardate. Devo mostrarvi veramente un video tratto da uno spettacolo straordinario, guardate. Di una compagnia dell'Armonia con Roberto Simico alla chitarra, il mio regista, guardate. Alessio Colaut, è veramente un numero straordinario, guardate. Facciamo partire le immagini perché è veramente straordinario, guardate. Io stavo nella mamma di là, che non dà per garantarmi la mamma di là. La mamma di là, che non dà per garantarmi la mamma di là. La mamma di là, che non dà per garantarmi la mamma di là. La mamma di là, che non dà per garantarmi la mamma di là. La mamma di là, che non dà per garantarmi la mamma di là, che non dà per garantarmi la mamma di là. La mamma di là, che non dà per garantarmi la mamma di là. La mamma di là, che non dà per garantarmi la mamma di là. La mamma di là, che non dà per garantarmi la mamma di là. La mamma di là, che non dà per garantarmi la mamma di là. La mamma di là, che non dà per garantarmi la mamma di là. La mamma di là, che non dà per garantarmi la mamma di là. La mamma di là, che non dà per garantarmi la mamma di là. La mamma di là, che non dà per garantarmi la mamma di là. La mamma di là, che non dà per garantarmi la mamma di là. C'è la mamma di là.